Prendi, trascina e sostituisci. Montare video non è mai stato così facile come con Canva. Se conosci la piattaforma per la grafica e la ami, riuscirà ancora a stupirti per quello che puoi fare con il video. E te ne parlo subito dopo la sigla. Ben ritrovati immaginativi, su questo canale è dedicato a chi vuole girare e montare video in modo semplice o quantomeno nel modo più semplice che riesco a trovare, senza però rinunciare a degli effetti wow. Ecco, in quasi 20 anni di montaggio video ho assistito a tanti cambiamenti. Ecco, devo dire che Canva, a mio avviso, è senz'altro uno strumento che sta cambiando il modo di lavorare e anche le possibilità che si aprono, soprattutto nella velocità del montaggio. Canva è una piattaforma online che nasce nel mondo della grafica e ha reso estremamente semplice la creazione di volantini come di quei post che si utilizzano per i social media. Ora Canva è sì una piattaforma online, ma è anche un programma che puoi scaricare sul tuo computer, un'app che puoi utilizzare sul tuo cellulare, su tutti i sistemi operativi. Tutti questi strumenti con cui grafici, ma soprattutto non grafici, hanno imparato a convivere, sono stati trasferiti nel montaggio video, rendendolo di fatto molto più semplice. Come prima cosa parti da un modello. È la caratteristica di Canva e di tutte le altre piattaforme simili che col tempo sono nate. In questo caso scegli il modello video per mobile oppure reel per Instagram, sempre ovviamente che la tua volontà sia quella di creare un formato, un video verticale, così come ci siamo detti nel titolo. Ecco, l'unica cosa che noto è che al momento non ci sono ancora tanti modelli disponibili per il video, mentre per la grafica ce ne sono tantissime tra cui scegliere, per il video sono ancora pochi e soprattutto un pochino scarni, però questa è una cosa a cui si può porre facilmente rimedio. È fondamentale scegliere il tuo formato in anticipo, che sia orizzontale 16 noni, 9 sedicesimi, 4 quinti o quadrato, sceglilo all'inizio. Perché? Nella versione gratuita di Canva non puoi cambiare successivamente il formato. È quindi bene avere bene in mente quale sarà la piattaforma di destinazione del tuo progetto e quindi scegliere il formato, scegliere il formato del filmato così come sarà esportato. Come seconda cosa aggiungi nuove pagine per allungare il tuo filmato definitivo, quello esportato. Come ti dicevo prima ogni pagina si trasforma in un'inquadratura, cioè uno spazio che puoi riempire con video o con foto. Tecnicamente basta cliccare sul tasto più, aggiungi una pagina e poi dalla colonna di destra dove ci sono i media puoi trascinare il video all'interno della tua pagina. Puoi scegliere tra i video d'archivio che Canva ti propone oppure puoi uploadare online i filmati che tu stesso hai girato. Ecco anche nella versione gratuita di Canva non c'è un limite al video, alla lunghezza del video finito. C'è però un limite nello spazio gratuito che la piattaforma ti offre che sono 5 gigabyte. Ecco tieni presente che 5 gigabyte per la grafica possono essere abbastanza per il video non sono tantissimi perché i video sono molto pesanti e per darti un'idea ogni secondo di video equivalgono a 30 fotografie, fotografie compresse, ma comunque ecco se hai intenzione di utilizzare Canva nella versione gratuita devi gestire bene il tuo spazio online, altrimenti c'è sempre la possibilità di sottoscrivere un piano e ampliare le possibilità. Terzo aggiungi un testo. Puoi inserire sopra il tuo video un titolo, una descrizione, qualcosa che racconti la tua storia o spieghi come fare A con immagini e parole. Clicca sull'icona T e ti compaiono tutti gli splendidi modelli che hanno reso famosa la piattaforma Canva. A questo punto una volta che le hai sul tuo progetto puoi andare a personalizzare i caratteri tipografici o i colori secondo quella che è la tua immagine di brand, puoi anche andare a rifinire la spaziatura o l'allineamento, insomma tutti quei dettagli che si aggiustano anche in un'impaginazione statica. La differenza tra una grafica tradizionale e il video è che ai tuoi testi puoi aggiungere anche le animazioni. Le trovi là in alto e una volta cliccato su quel tastino con i tre pallini ti compaiono di fianco nella colonna tutte le animazioni disponibili. Non tutte le puoi utilizzare nella versione gratuita e soprattutto non sempre puoi andare ad aggiustare la durata dell'animazione. Comunque è già un buon punto di partenza per iniziare a dare un po' di movimento e vitalità ai testi dei tuoi video. Quarto le transizioni. Le transizioni sono quegli effetti visivi che vanno a interporsi tra due immagini che siano foto o video poco importa. La transizione classica per eccellenza che tutti quanti ricorderanno è la dissolvenza cioè quando un'immagine gradatamente si mescola con l'altra ma ce ne possono essere tanti altri come quando un'immagine sposta quella precedente. Quindi in Canva per andare a inserire degli effetti devi cliccare quel tastino più tra una clip e l'altra e si apre un menu con due voci. Seleziona quella sotto con quella specie di freccina. Cliccando lì sopra ti si apre lateralmente il menu con tutte le transizioni disponibili. Al momento non sono tantissime rispetto ai tradizionali programmi di montaggio. Lascio a te il compito di sperimentarle tutte quante perché è solitamente una cosa divertente da fare. Selezioni la transizione che ti ispira di più e ogni transizione ha un certo numero di personalizzazioni che puoi vedere se si adattano o meno allo stile del video che hai in mente. A questo punto il tuo video può dirsi pronto perché hai una sequenza di immagini, dei testi, delle animazioni e anche delle transizioni per dare un'apparenza più professionale al tuo prodotto. Non ti resta che esportarlo che in Canva è sotto la voce condividi. La trovi in alto a destra clicca lì sopra e poi seleziona scarica. L'unico formato disponibile è quello mp4 che comunque va benissimo per la condivisione sui social media e sul web in generale. Quindi scegli il luogo dove lo vuoi salvare e poi guarda il tuo video esportato e finito. Quinto conserva e riutilizza un progetto. Ciò che rende impareggiabile Canva è la semplicità con cui puoi prendere un progetto e aggiornare i contenuti e questo è molto molto importante perché la creazione di un progetto può essere può portarti via parecchio tempo se la fai bene perché devi andare a personalizzare i caratteri tipografici, le animazioni, i colori e tutti quegli elementi che fanno sì che un tuo video abbia degli elementi stilistici e venga riconosciuto come tuo. Ma una volta che hai fatto il lavoro di pianificazione e di creazione puoi riutilizzare quel modello, quel progetto quante volte vuoi. Lavorare con dei modelli è molto molto funzionale soprattutto per chi vuole creare contenuti per il web perché ti aiuta a spostare l'attenzione dalla creazione di un contenuto alla creazione di una serie di contenuti che hanno delle caratteristiche simili. Perché poi la serialità, la costanza, la ripetitività e anche la riconoscibilità quello che fa acquisire visibilità all'interno di piattaforme come Instagram, TikTok ma anche Facebook e YouTube. Quindi per progettare i tuoi video in modo seriale lavorare con un modello ti aiuta molto. Montare video con Canva a me sembra molto più semplice e intuitivo rispetto a classici programmi di montaggio di cui ho trattato spesso su questo canale come ad esempio Filmora, Shotcut, HitFilm oppure applicazioni come KineMaster, VLLO, CapCut. Però dimmi la tua perché mi interessa sapere se ti è più agevole oppure non lo è e in questo caso quali sono le difficoltà che incontri. Perché tutto quello che scrivi nei commenti è poi utile per me per progettare e pianificare nuovi episodi. Se vuoi restare aggiornato su temi come creare video per il web o girare i tuoi videocorsi puoi iscriverti alla mia newsletter. Arriva una volta al mese e basta che lasci l'indirizzo qua di fianco e sottoscrivi tutti i cavilli della privacy e resti aggiornato rispetto a quello che ho da dire. Ora hai uno strumento in più per mettere in immagine la tua storia e creare la visibilità che meriti.